buonasera a tutti ragazzi del vostro carta al curva nord alla fine della partita inter fiorentina fiorentina inter allora come già avrete sentito nella live sono molto incazzato per un punto sinceramente che non che mi fa schifo veramente perché un punto che poi si sono guadagnati solamente al novantunesimo anche se al primo tempo ci sono state molte più occasioni anche per loro ragazzi abbiamo un centrocampo inesistente inesistente un giovao mario vergognoso penoso un 50 milioni di euro spesi per un giocatore che non vale una mazza non vale un cazzo questo gennaio se ne deve andare e anche immediatamente poi abbiamo praticamente visto la nostra difesa abbiamo perso anche quest'oggi ranocchia ecco adesso voi mi spiegate no con chi andremo a giocare con la roma poi come se non bastasse il nostro maurito ok sono sono soddisfatto del suo diciottesimo gol in 18 partite credo 19 partite ma la cosa che mi ha fatto ridere che ha fatto prendere quel cazzo di fallo che adesso purtroppo ci porterà andare a roma senza di lui quindi maurito che cazzo hai fatto un fallo da deficiente un fallo stupido che non porterà da nessuna parte per quanto riguarda diciamo adesso con chi andremo a giocare a roma sinceramente ragazzi abbiamo da esso 23 giorni di tempo 23 tre giorni per recuperare una difesa almeno decente che si possa presentare già con una rivale concorrente ossia la roma perché la roma come ben saprete una nostra rivale concorrente io ragazzi voi dite di no ma io sono deluso francamente deluso di un pareggio schifoso e vergognoso anche come arrivato ragazzi è una vergogna un 1 a 1 del cazzo a gennaio a gennaio dovete comprare cari suning non me ne frega un cazzo del vostro fair play finanziario che ci ferma perché a questo punto andiamo a vendere questi brocchi come joao mario 1 2 brozovic cominciamo a venderli perché fanno ridere i polli io non voglio avere un girone di ritorno come l'anno scorso ma mi sembra che stiamo quasi quasi lì lì stiamo lì lì comunque un 1 a 1 che sinceramente a me non mi fa né gioire mi fate solamente che incazzare dalla mattina alla sera i cardi che hai fatto quel cazzo di intervento i morti tua all'ultimo momento che non serviva un cazzo vabbè continuiamo così continuiamo in questa maniera e vedremo poi dopo i risultati dove portano poi lo staremo a vedere i risultati dove portano staremo a vedere ragazzi io ve l'ho detto se continuiamo così ci possiamo giocare il quarto posto anche se comunque la roma verrà scaricata dalla champions league la lazio dell'europa league va bene voi siete convinti in questo calo di queste grandi di queste squadre perfetto io starò a vedere dove arrivo sono pessimista sì lo sono perché una squadra così è indecente a prendere quel cazzo di gol al novantunesimo la partita era la tua dovevi tenerla e dovevi prenderla per te dovevi vincere cazzo questi tre punti erano fondamentali sia per la testa sia per il carattere sia per il carisma noi ci siamo riusciti ok staremo a vedere dove arriviamo e con questo vi saluto buona epifania e ci vediamo come sempre diciamo in qualche live per il calcio mercato e quant'altro invece per quanto riguarda la nostra inter se ci sarà qualche colpa all'improvviso farò uno speciale di qualche video con questo vi saluto ragazzi e buonanotte continuate a iscrivervi al canale dai arriviamo a 600 grazie buonanotte buonanotte